Secondo i dati Istat, più del 20% delle persone sono sotto la soglia della povertà qui in Italia. Di conseguenza ho voluto analizzare un argomento importante, che è quello di come poter vivere con 500 euro al mese. Poter vivere con tale somma risulta molto difficile nel nostro paese, poiché il paniere di prezzi è molto alto e di conseguenza tale vincolo di bilancio è veramente molto ristretto e non è possibile acquistare grandi panieri di prodotti. Ora vi mostrerò un esempio, ho fatto un'ipotesi di come se io avessi solo 500 euro a disposizione destinerai tali soldi per quali beni e soprattutto per le spese fisse. Ora spostiamoci di là nella mia stanza e andiamo a fare questa analisi. Eccoci qui, allora l'ipotesi è la seguente, cioè quella di vivere con 500 euro al mese e come ho voluto destinare i vari costi che andrò a sostenere. Innanzitutto ho voluto suddividerli in costi fissi e costi variabili. Ora andiamo ad analizzare i costi fissi. Per quanto riguarda i costi fissi, ho fatto l'ipotesi di vivere all'interno di una stanza, sostanzialmente, con altri studenti e di pagare 100 euro al mese di bollette e 250 euro d'affitto. Per cui, così da un piccolo calcolo, vediamo come mi rimarranno all'incirca solo 150 euro. Successivamente io ho calcolato che, appunto, avevo a disposizione 500 euro, diviso 30 giorni sono 16,66 euro. Però se togliamo i costi fissi mi rimangono 150 euro, diviso 30 giorni sono 5 euro al giorno, i quali entreranno a fare parte di quelli che sono i miei costi variabili. Come per cui ho deciso di considerare quelli che saranno i miei costi variabili? Allora, io sono un grande amante della palestra, per cui veramente non posso rinunciarvi e quindi ho considerato che andrei in palestra, ok? Naturalmente, se non avrei altro denaro, rinuncerei alla palestra e destinerai, essenzialmente, il mio reddito solamente in cibo. Quindi, da un primo punto di vista, sembrerebbe che si possa vivere con 500 euro al mese. Però, naturalmente, io non ho considerato gli imprevisti, potrebbe succedere qualsiasi cosa. Naturalmente, io ho fatto anche altre ipotesi, cioè non potrò fumare, ok, non fumo, per fortuna, non potrò bere alcol con gli amici, di solito, appunto, io non bevo alcol, nessuna automobile, per cui, naturalmente, qui dovete considerare anche quello che è il vostro costo, opportunità, però, naturalmente, se voi avete 500 euro al mese, è molto probabile che significa che voi non lavorate. oppure essete in un tirocinio, e questa è una delle peggiori ipotesi iniziali cui vi troverete all'interno del mondo del lavoro. Per cui, no auto, naturalmente, no feste, e nessuna ragazza, perché, naturalmente, bisogna offrire qualcosa anche alla ragazza, e invece la palestra, ho deciso di sì. Naturalmente, non è troppo fatto a considerare quello che avrete bisogno anche di vestiti, di prodotti per la cura, di detersivi, e quindi ritengo che ci vogliono almeno 800 euro, almeno. Quindi, siamo costretti a lavorare, almeno, a fare un part-time, con le politiche attuali, naturalmente, con le politiche di cittadinanza, ti possono dare 600 euro al mese, però non sono sufficienti. Per cui, da quest'analisi, si evidenzia come sia impossibile vivere con soli 500 euro al mese. Potreste, con quel denaro, se non avete, appunto, una casa di proprietà, dovrete pagare le bollette, pagare l'affitto, e avrete i soldi solamente per il cibo. Naturalmente, nel caso in cui aveste una casa di proprietà, naturalmente, voi avete dei costi di manutenzione per tale casa, e naturalmente, tali costi dipendono anche quanto più è grande la casa. Di conseguenza, non ci riuscireste. Dovreste cambiare proprio società, dovreste andare in un paese dove il costo della vita è minore. A questo punto, mi aggancio a quella che è stata la politica, dotata da parte d'Italia, per coloro che non lavorano, cioè quella del reddito di cittadinanza, di destinare, per l'appunto, a chi non ha un reddito, destinare 700 euro al mese, che mi sembra una cifra, naturalmente, non congrua, perché in alcune zone d'Italia il costo della vita è molto più alto rispetto ad altre, quindi andrebbe bilanciato anche sulla base del costo della vita e sulla base dell'inflazione. E naturalmente, considero anche un'altra categoria, che secondo me è molto colpita, che è quella dei disabili, i quali hanno una indennità, appunto, di invalidità, pari a circa 300 euro al mese, se non raggiungono il 100%, nel caso in cui hanno anche l'accompagnamento, gli vengono dati altri 400 euro. Naturalmente, pensate a un disabile che è inabile al lavoro, vive da solo, che gli danno 300 euro, più altri 400 euro che vanno a coprire il reddito di cittadinanza, però considerate che un disabile ha maggiori spese rispetto ad altre categorie, come esempio siamo noi, e siamo molti fortunati. Per cui vi chiedo di dirmi che cosa ne pensate in questo video, e ci rivediamo presto.